Un immenso Kraslin trascina Sassari alla vittoria su Venezia nel secondo anticipo del sabato sera. E big match di giornata. La squadra di coach De Raffaele perde Bramos dopo un minuto per infortunio. In avvio attacchi sulle difese. La Dinamo fa valere la sua maggior fisicità con Hepp e Bendius sotto le plance. Nella seconda frazione Mazzola con otto punti consecutivi porta davanti la Reier e tonuto a lunga la più 7 che diventa più 5 all'intervallo lungo. Per portarla a casa il banco Sardegna ancora una volta deve aggrapparsi all'area colorata. 37.25 il computo finale delle carambole con Kraslin e Bilan alle tarlegge. Per Lumana l'ultimo ad arrendersi resta al solito Tenute ma i suoi 24 punti questa sera non bastano.